Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Quali sono i margini di miglioramento, mister, di questa squadra e qual è il reparto su cui bisogna lavorare maggiormente? Per me sono tanti margini di miglioramento, penso che si può, si deve giocare molto meglio come squadra, come individualità. E reparti e costruire centrocampi. Il secondo tempo, cioè l'ultimo tempo ha fatto bene secondo me, il secondo tempo non è solo per passura. Sono gli altri due centrocampisti che si devono mettere a disposizione con chi può giocare, con chi può vivere in mare. Così penso che erano troppo lontani e poi uno era troppo sopra e uno era troppo sotto e più difficile costruire. Mister, nonostante poco tempo alcuni fiodesi sono distanti.